I programmi di Orizzonti, il cinema ha potuto esplorare le arti visive, il teatro, la danza, l'architettura. In qualche modo era il senso di questa linea di programma, quello di spiegare che il cinema rimane vivo proprio perché si arricchisce, rubando a tutti quei, a tutti gli altri linguaggi espressivi a lui vicino. Through this section of Orizzonti, cinema has been able to explore the world of visual arts, theater, dance, and art. In questa editazione, interpreti di questo programma, la giuria di Orizzonti 2011. And without further ado, I would like to... In ordine di comparizione, il presidente. Ciao, ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie.